Bello ragazzi, in questo video cercheremo di riscattare l'ultima skin della ruota Kibi Comunque mancano poche ore, 22 ore, abbiamo poco tempo per riscattare la Kibigal E durante questo video vi svelerò in segreto anche quando uscirà il nuovo aggiornamento Parlo della 0.50 di StumbleGuys Siete pronti? Iniziamo subito, mi raccomando like, iscrizione e codice Sparks nel negozio di StumbleGuys Non dimenticate di supportarmi perché è importantissimo, si trova proprio in fondo qua in tutti i mobile Se avete Android o iOS lo trovate qua in fondo Ogni sette giorni va rinnovato, mi raccomando Iniziamo subito con la prima partita, aiutate di andarcele su LaserDash Ok, iniziamo, già sette morti nel giro di due secondi La gente che schiatta in un secondo su LaserDash E comunque è molto difficile che i laser appaiono male a nulla Ma però dopo due secondi i laser ancora non ci sono, cioè come fanno a morire? E poi... attenzione, qua dobbiamo stare attenti Facciamo che se perdiamo... spacchettiamo di... facciamo tipo 5 spin No, se perdiamo andiamo di 10 spin, se vinciamo solo 5, così risparmiamo delle gemme Oggi mi sento che troviamo la keeping goal, ragazzi Non so cosa ne pensate voi, intanto mettete un bel mi piace al video Mi parte col secondo round Abbiamo ancora sta banana fedente qua davanti che vorremmo a killare C'è anche Mimmo, è Mimmo! Ah Mimmo! Madonna, questi sono aggressivissimi, sono qua Una kill solamente spingendolo Cioè manco l'ho dato il pugno perché non sono uscito a prenderlo col pugno, mi sa Vediamo se riesco a colpire sta banana fedente E la banana è andata 6 su 8 Oddio! Non ci credo! Ma si può buggare così, gli saranno in testa e caschiamo te due E niente, cominciamo male ragazzi Subbio 10 spin, patentissime Andiamo su ruota kibi, 10 spin, 1250 gem Ti prego kibigal Niente, niente Quasi il kibigai Interessante Aumentiamo un bel volume Ok, Maximus Se non si chiama Maximus questo qua E adesso andiamo direttamente sulla cinchiuling Andiamo al quarto giro Ma si chiama ruota kibi Fammi uscire la kibi Il volpino rosso Dai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Vai, 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 vai No, leggendario Uscita già Niente altro leggendario Se esce la leggendaria non escono più leggendari Shit Lo chef Ma che sfiga abbiamo in questa ruota raga Ma io oggi mi sentivo che prendevamo la kibi Ma che è successo? Avete visto? Ma si è bloccato mentre girava Questo è un glitch strano McDonald's Allora McDonald's E niente E infine il pollo Perché con McDonald's c'è sempre il pollo vicino E poi Oddio No, questa è cattiveria Questa è cattiveria ragazzi Stiamo andando malissimo Ecco perché andremo a giocare adesso su caduta spaziale Perché Sparks è spaziale Quindi questa qua la vince sicuro E se la vinciamo vi svelo anche Qual è la data dell'uscita del nuovo aggiornamento Allora, space drop E ci dice di non cadere E fin qua Ci siamo Io nel dubbio mi butto Peccato Ezz Ma potrei provare a saltare E andare in quel pianeta? Vai, vai Potrei riuscire a salire da qua No, vero? Sto cascando troppo in basso Cercasi Cercasi Bouncer Oh, la fetende di panza Mi sono salvato Stavo a fare una brutta fine 15 su 16 Buona Porca paletta Porca paletta Vai Dobbiamo rimbalzare altissimi Vai Ottimo Dai Eh, siamo altissimi Non c'è nessuno Abbiamo vinto Oh, questo Da dove è uscito? Io ho levato la casella Poverino E niente Di nuovo Ma Ma è due volte di fila Sono fortissimo Sono fortissimo A levare le caselle Ah Non da zardare Vai via Oddio Meno male Ho sfiorato il coso C'è io fino là sotto Qualificato Qualificato Vai Ragazzi Tenetevi pronte Questa la potrei vincere Parte lo spoiler Occhio Abbiamo Fantastic Abbiamo L'orsetto Abbiamo Basta E abbiamo Un jump Che ci fa andare Nel cielo Altissimissimo C'è sta Sta Diana Che ce l'ha con me Che cerca Di darmi un calci Al volo Non so se avete notato Anche voi Ma che io ho fatto Ma perché Siedono così I meteoriti Ti butto i buggati Guarda 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 Ma che strani Che l'ha fatto Opo Gigi Stai chiedendo Stai grafica Opo Gigi Grafic Design Presence I nuovi meteoriti Vabbè io sono rimasto Qua in alto Comunque nel dubbio Come sai questa partita La vinco Senza problemi Che poi Non importa Che tu sei in alto Perché tra un po' Scenderemo in basso Appare il livello loro In pratica niente 4 su 7 Dovrei riuscire a dare qualche pugno A uno di loro E forse riesco a Fare qualcosa di interessante Vai col jump Boing Vai Non fallire Attenzione Rischio qua No ma Visto Diana Ogni Ma perché ogni volta Mi viene a me casca Questa qua Oddio è morta No Non è morta Si salva sempre È incredibile Allora Mi salvo questo qua Perché questa casella Mi farà andare al centro Tra poco Quindi devo essere smart Oddio Petente Questi glitch Non è giusto Devo prendere subito Il jump Prima di lui Prima di lui Prima di lui Ma dai Ma un po' di bloccato Nel jump Non ci credo Raga 6 su 7 Ma che è rimasto Solo quel Quel Diana Che c'era con me Non ci credo Ma ando sta Si Si vince L'ho detto Che sono spaziale E qua facciamo Ben 5 spin Perché ci bastano Solamente 5 spin Per ottenere Quella Kibigal Del cavolo Che non vuole uscire Per nulla Al mondo Ma invece Appena uscita E niente Maximus Vediamo se esce Al secondo giro Niente È già passata Erby Kingozzo Terzo giro Vai Ti prego Ti prego Ti prego Vai Vai L'alieno È rimasto l'ultimo Ultimo giro Ultimo giro E niente È già passata Vabbè Vabbè Non si trova ancora una volta Ah C'è l'ultimo giro E te c'è la sorpresa La sorpresa Niente Quasi il Kibigai però Vabbè Niente Via Parliamo ragazzi Del nuovo aggiornamento E per farlo Andiamo nel nuovo update Quindi nella beta Così vi spiego Siamo nella beta Abbiamo pure il primo gratis No se forse in questa beta Troviamo il bolt Perché il bolt ragazzi Io non l'ho trovato ancora Manco una volta Niente Ci è passato Ho trovato Niente Niente Ci stava la skin comune Buggata al solito Che poi è una speciale In pratica Però vabbè Allora Siamo alla 050 beta Voi mi state chiedendo Quando esce la 050 Sparks La 050 esce ragazzi Oggi è l'8 giugno Vi ricordo che nel nuovo aggiornamento Arriveranno tutte queste skin Tutte queste qua Alcune sono già mischiate Qua in mezzo E l'aggiornamento ragazzi È programmato Per il 13 di giugno Ora Io vi dico una cosa Il 13 di giugno Deve uscire l'aggiornamento Che è Martedì Vi dico già da ora Che era programmato Per il 12 Quindi lunedì Ma già è stato spostato Di un giorno Quindi potrebbe arrivare Anche qualche giorno dopo Cioè È tutto un dubbio Diciamo Però In teoria Come Diciamo Come previsione La data per ora Che è stata data È il 13 giugno Tra settimente Tre giorni e mezzo Quattro giorni Avremo tutti la 050 Quindi nuovi eventi In arrivo Nuove skin E tanta roba Con il vostro Sparksone Come promesso Con i 1000 mi piace Vi ho parlato Quando arriverà Il nuovo aggiornamento Perché Sparks Mantiene sempre la sua parola Mi raccomando Mi piace E codice Sparks Nel negozio Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella Grazie a tutti.